Ieri abbiamo perso tutto Però alla fine abbiamo rifarmato un po' di cose Tipo diamanti, armor, qualche livello Solo te Beh anche Luca e Tommy Tu te ne sei andato? No non me ne sono andato Era Tommy che se ne è andato, non mi ricordo Io e Luca abbiamo fatto un po' di cose Poi abbiamo la Tomno Staff Che è la nostra spadozzola Che in verità vorrei rinominare in Nella mia sword Effettivamente la mia sword è la Quella con la Mongas Eccola qua Questa è la mia spada Ora va molto meglio Che fa lei signor Alex? Io sto uccidendo animali per farmi del cibo Perché non voglio andare in miniera senza cibo Bello Come me Interessante Come me Madonna Sto cercando il telecomandino dei led RGB Gli animali stanno troppo laggando Probabilmente il tuo cervello che fa brain lag No non credo sia io laggare perché faccio 500 fps Non c'è... no è un... Gli fps non c'entrano con il ping azio Come no? Allora... Ok La sbattiamo qua sotto Sotto? No? Qua in basso La facciamo Viola Ehm... come si fa viola? Così? Un po' troppo viola questo Questo ci sta Allora stasera dobbiamo continuare il... Il ponteggio marino del dock E anche farmare un po' di materiali perché Praticamente è esploso tutto Cosa starebbe il ponteggio marino del dock? Ehm... vuole creare una roba al dock Ma... Minecraft ha rotto le texture pacco oggi? Sì Allora... Dove si andava? Ah ma la texture pacco di emeraldia Non la volevo Cioè è bella però Adesso mi serviva quella del server Non la so Weee Ah eccoci qua Sai che è carino anche senza shaders la zona edge Dai ci sta Dovremmo poter Cantare I bono Cantare? Se no Oddio avrei forti un 3 a 30 livelli Io lo prenderei subito Cioè non lo so Mmm Mmm Codo tantissimo per sta roba No qua non lo uso Ma però c'è degli alberi giganti qua Questa avrà c'è Questa avrà c'è Vicenza Blast protection No Fire no Unbreaking potrebbe essere interessante Protection 3 Non so perché Come è un matto Per adesso No Sai che ci servono tantissimi lapis Potremmo andare a cercare quelli Se riesci a prenderne Soprattutto se è al nera Se no Cioè Ma alla fine del dock non ho capito bene Ho capito che è una zona Che abbiamo fatto noi due Però Almeno Potersi incentare Sì Dai Magari evitando Di andare in casa nostra Dovremmo fare un'entrata no? Dove? Per andare al bunker Dove ci sono l'enchant Sì Ah ma io un po' di lapis ce li ho Dai Servirebbe Tu hai delle blade No le blade Sono di sotto Non sono mai andata nel nether Vado È vero è vero Ciao Lele Buonasera Come va? Vi do il trolling Lol Bello Bene Sono contento Dai Devo rubare Un pezzo di ossidiana Al dock Questi si rubano Il dock non mette via E io rubo No Sembra giusto Questo l'abbiamo rubato a Tommy Attuale non hai sentito niente Tu non hai sentito niente No ma finché Tommy si può rubare No in verità sto facendo una cosa per tutti Ovvero un ender chest Ma no no un ender Ti ho detto finché Tommy si può rubare tutto Tante Tommy Vero che Tommy Se hai Minecraft premium Dobbiamo fare un paio di cose Sarebbe un S&P tra amici Quindi se hai Minecraft premium Lele sì Se no sono cazzi amare Questa roba del nuovo anti-cheat su Minecraft 11.19 Non l'ho ben capita Né perché Né come funziona Si puoi venire bannato dall'online Anche per sempre Se fai cosa? Eh sì I player ti reportano Anche per niente Cioè a loro non gliene frega un cazzo La moja che ti banna Ah Beh è bello cioè Vorrei tanto essere bannato per niente Bello l'automod Ti rompe le palle Sarebbe carino essere bannato per niente Beh se vuoi buttare via dei soldi Per Minecraft Si Mi servirebbe una Enderman Vado nell'Eder ad ammazzare un Enderman Se lo trovo E poi torno qua Mi fa 21 lapislazzoli Bravo Penso che ce ne serviranno abbastanza Non so Anche tanto carbone Ne avevo trovati Cavolo Vabbè non sono difficili da prendere Ma sì In effetti ho trovato Non ne ho trovato abbastanza Però tu ogni volta hai abbandono l'SMP Perché sono morto Io che ho perso Tutto Quanta roba che ho farmato Quanti livelli che ho buttato Perché so quante cose avevi Sfortunatamente C'è Platinum Ti ha bannato Pure dai mondi singleplay No vabbè Che sfiga Allora io vorrei Vedere se riesco Qua c'è lo spawner di Blaze Comunque Tu sei confeder Ale? Io certo Ah ok Puoi farti waypoint Ad esempio la fortezza A me lo ce l'ho a Optifine Sì E poi Con non so più che tasto Però come Lunar Client Stessa cosa E come si fa su Lunar Client? Vabbè Shift destro E vai a vedere nelle mod Shift destro Qua non c'è nulla Non va sì Shift destro Per forza va Shift destro Cosa? Non va shift destro Shift destro Ma scusa È un tasto Premi lo shift Che sta sul lato destro Da tastiera Non ho capito cosa è che non funziona Ah io ho capito shift Più il destro Ma quando mai si apre Quando mai un client lo apre così Dai 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 Sto dell'armatura Sì Sto cercando un enderman Come hai visti Nell'overworld No Sono in miniera Dovrebbero spawnare nel bioma bloom Non mi ricordo più dove sta Ah i piglin Abrazza 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 Ho detto Abrazza Abrazza Salve Doc Mi dispiace Ma io non ci posso fare un c***o Se mie mi dicono Sette minuti E poi ne passano venti Io ti dico Ventisette Giusto venti in più Vabbè io farò le brutte cose Vabbè avvia GTA Lì come si chiama Sì Le name si è una stranzata Spinta dalla microsoft Bravo Lele Ah ma siamo in coso Ah ma siamo già Abbiamo sbagliato chat Andiamo Ma come sto speso le Ho cliccato per sbaglio Dichiamo Perchè sapere che ce ne dimentichiamo sempre Andiamo a killa reale Che bello Meraventario Time out Dai Ma è su in time out per sbaglio Lele scusami non volevo Ho cliccato a caso In giro per lo schermo Cercando di spostare una finestra E invece Doc per favore Ti ho avvisato che se ne metti ancora Mi dà fastidio Voi conosci Conosci l'Aramaico Antico? E io conosci Conosci le bestiemi in Aramaico Antico? Non lo conosci Se non le conosci ancora Te le farò conoscere molto bene Cazzo Che cos'è no? Il gatto Stavo scavando il ferro Sono caduto in un buco Pensavo di morire Dov'è lei? Sto cercando i sassi lunghi Ma vorrei dire Io Qualcuno si è ciulato la mia TNT ieri sera Io mi sono ciulato uno di ossidiana Perché sto facendo un ender chest Da mettere nel bunker Ah ti ho preso Tipo 20 di stone Perché non avevo niente Volevo farmi gli utensili iniziali E non avevo voglia Di craftare il piccolo Cioè lui si è rubato la stone ragazzi E va picchiato È un reato troppo grave Ma perché Chi è che ha usato di nuovo l'envil Che lo impalo? Io no Cosa Per come dovrei verlo Mi siete Con le mani Con le mani Con le mani Fai ciao ciao Si rinomina un cavolo Si rinomi una bomba a mano In bomba a gestione termica Bomba a piede Diventerà una bomba a esplosione termica Bomba a mano Bomba a piede Vai così Come il tuo Se metti Se prendi Un'esplosione termica E un'altra esplosione termica Ma io mi dissocio dal nether Che fa brutte cose Il nether Ovvio Il nether fa sempre brutte cose Non lo sapevi? No nel senso Ho chiacchierato Diciamo Una bella immagine What? Doc mi sono rifatto Il piccone con fortuna Diamanti Non ci credo E quanta fortuna Tre Bambini No non li ho mai trovati A livello meno dodici Diamanti Infatti si trovano A meno quarantaquattro Di solito Infatti l'ho trovato A meno dodici Beh Da dodici Si trovano dallo zero in giù Però va bene E però si trovano Potrei entrare In codesta Cosa di nome vocale Discord Vai Cioè Punto esclamativo Discord Vai dove? Vai nell' Discord Scherzo In paradiso Doc lei lo ammazza Eh sì L'ho copiato Io prima di tornare In superficie Ti accoppi con lui Tutto in diamante Tutto inciantato E poi vediamo se Ti encianti Con quale Enchanting table Ovviamente Con la vostra Con quale Se no E se il bunker Ad accesso è limitato Ma no Sta cosa Doc Cioè Almeno Se uno vuole incantarsi Che uno non vada Nelle case Di noi due Ecco Magari chiamo Un'entrata comune E negli altri Eh ma le case Nostre Sono collegate Basta Voi case Non ne avete No Tendo a dire In generale Nelle case Che non si entri Sei il primo Che fa le cose Ale Però Sta zitto Gritto bambino Esplosivo Dinomiale Io vado nel neder A prendere il nederito Perché basta Mi sono rotta i coglioni Adesso io faccio esplodere voi E voi non fate esplodere me Ui Ho imparato a volare Ma scusate Casa di Tommy Che fine ha fatto Un'esplosa Non c'era Un'esplosa 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 E niente Eh il doc Il doc Il delzionario Il doc VV Il doc VV Dai E' la motosca Eh ma Lele Solo certe persone Hanno l'accesso Alla Alla stanza Perché Sono controllate Da Che c***o Non lo so nemmeno io Eh Eh Nessuno Sono controllate Ecco la dura verità Questo Non lo saprà Nemai nessuno Vuol dire che adesso C'è qualcuno Che mi spia Sì Ah Sto salutando in giro Eh ragazzi Sapete dove posso trovare Il bioma blu Eccolo là Dove posso trovare Il bioma blu Eh eccolo Ora lo vedo Ah ma anche questo Sta nel neder Guarda che bastione Sì io sono un bastione Vi voglio sciolare La nederite Ma io neanche Mi sono messo a cercarla Io non la vi lasco a trovare Io se ne sono piccone Con efficiency Qualcosa Non vado a cercare La nederite Io ci ero andato A cercare Con un piccione Di pietra E' intelligente Guarda che Se ne hai fatto Trenta livelli Ed ho Ieri sera Di ciao Eh sì Con lo spawner Del coso Del Di uno spawner Sì ho trovato Uno spawner Ieri sera Di cosa Ho lasciato il server Aperto per chi Voleva giocare Ma se no Non avevo contenuto Da fare oggi Appena chiuso La live Hai chiuso subito Il server Ho scritto in chat Che l'avrei lì aperto Ah Vabbè Ma te devi scrivere Su whatsapp E' vero Su whatsapp Ho creato un gruppo Dove si mandano i port Io lo voglio Io voglio Che si apre Tutto il giorno Eh si apre Si apre Sai cosa si apre doc Eh amando E' vero effettivamente Però Dagli una mandata Così che si apre Io adesso A fare 10 livelli Quindi Ma poi col quarzo Ieri ho preso Fortuna 3 E col quarzo Mi sono messo Mezz'ora Ho fatto 13 livelli Sia col quarzo Che con E io sarò stato Non è importante Oh nederitos E si gode Il doc rimedie Non penso La prenderò Prima di andare Nel land Sinceramente Nel land E' bello Farlo con Ma mi serve Perché c'è qualche Ma sinceramente Nel land E' meglio farlo E poi si prenderà Nederite No vabbè Geniale No Quello che ho detto io Sto cercando un enderperla Ragazzi Ne avete una Enderperla Eh non ho niente Vorrei chiedere Cioè io non ho niente E quindi Nemmeno un enderperla Effettivamente però Oh non posso schiupare No scusa Adesso ho un piccolo indiamante Yeah Ma dai Beh smetti di bruciare Oh ho smesso Bostava quittare e rientrare Perché smettere di bruciare Bostava Vedermelo prima No non funziona così Si Ho smesso di bruciare Si è quittato nel momento Che hai smesso di bruciare Mi sa Perché non funziona Ma si effettivamente si è Chi cazzo è Guizzer Che cos'è Guizzer doc Vuol dire strego Io non seguo le benzio Vabbè Chi è Non cosa è Non lo so Lele Non Non seguo Non seguo le persone Che esplodono Io sono L'esplositore Di persone Io sono L'esplosione Era più Per dire effetto Tu Ale L'italiano E lo sei Ci l'ha Lo usava 27 anni Ah Ma che cazzo Me ne fotte Che cazzo Per dire effetto Ma l'italiano Per dire effetto Non si dice Svegliati con l'italiano Ma che cazzo Vuoi Dio mio Ma che cazzo Vuoi da me Tu sapere Rosso Vabbè Stemmi al rosso Questo No perché Se no Mi fa il culo Ah te lo ricrea Ragazzi Ma questo portale Del nether È uno scam Non ha La chest Ah è qua sotto La chest Solo che non te ne sei mai accorto Eh sì Le parole sagge Del santo Alex Mamma mia Che parole sagge Già Non riesco a trovare niente Io sto scavando qua Arce ne venite da mezz'ora Niente e ancora di più Niente Non riesco a trovare niente Trovare un netherite è facilissimo Queste versioni Eccole però No io non cerco un netherite Sto cercando un ender Per Un po' No io non cerco diamanti È una tecnica per ritrovarli Io non sto cercando diamanti No Sto cercando ovviamente L'apislazzoli Prendo un po' di quarzo Che mi faccio ancora un po' di livelli È una tecnica segreta Io ovviamente Non sto cercando diamanti Eh io devo prima Incentarmi per farmi Eh provo la tecnica Del lapislazzolo In teoria di qua No Sì di qua Non so se l'hanno fixata In una dicianna Diciotta No È più complicata Ma ce l'ho Poi non è un bug eh È una cosa No non funziona Vabbè continuo ad andare avanti No non sempre C'è un otto su dieci Tipo di percentuale Ma Che culo Ho trovato la lapislazzolo Ho fatto la tecnica Non ha funzionato Sono continuato dritto Dove ho fatto Un figlio di putt Cosa mi attacchi Ho trovato Esplode Grazie Quattro diamanti Quattro lapisaia Aia Lapis Uno sacche 20 No Ci fa come Noi abbiamo questi finito Il lapis Struzzo esplodi Sì me l'aveva già detto Cerco di prendermi Possibile Ah ragazzi Potete aiutare Aiuto Vuole che Marti che dice Aiuta Noi siamo Che parliamo così Come se Dai ma non riesco Bicarlo con la fireball Eh Io non posso farci niente Sono qua in miniera Dai Anche io effettivamente Però nel nere Sto tipo scavando Un botto di Il quazzo Tutto questo Praticamente serve Sia per finire Il bunker Per fare Oh madonna Mi sono rotto i cogli Gast scendi qua Il concorso si fa Io ho già 18 livelli È bello Oh Bastardo Anche io ce l'ho 18 E tipo sono entrato da poco E ne avevo uno Perché Stai ignorando la chat Non è che ignoro la chat Io sono da 40 minuti Ne ho fatto 18 È che la guarda ogni tot Tanto Non c'è mai nessuno Per quello Io ho che abito di allontanarmi Tengo un po' da portare Ora ho due stacche 30 Di l'opis Voi adesso C'ho Intorno ai 20 Io sto facendo un altro livello Guarda di nuovo 35 La quarta volta che rompo Lo stesso blocco Con sto piccone Si sale in due secondi Altro che lo spawner Forse era meglio Se mi mettevo subito a scavare Non alla fine Il portale del nether Sta di là Io sto contento Perché in Il prossimo tempo Ho trovato Contaglie delite Quando ne hai Eh non posso dirlo Come no Scherzo C'è no tipo 4-5 E io scavo Che tu pensare Io scavo tanto Non si sa cosa Ma scavo Io in due ore di mining Di netherite Tu sai quanta ne trovo? Cioè i tuoi in confronto Non so niente Io ne trovo Zero In due ore di mining Mining in netherite Sì ma tu non sai come scavare Questa che sto scavando Sono adesso a 14 Una volta Ho usato uno stack di TNT Uno stack Sai quanta netherite? Ma non conviene più ormai Non per forza la trovo 1-19 Ma non è la 1-19 Questo è il punto Io la 1-19 Non l'ho mai giocata Non so nemmeno io Adesso in 1-19 Anche perché non potresti entrare Nel server Ma dettagli Ma no Ma Nel 1-18 Con queste nuove versioni La TNT Ormai fa schifo Ma noi siamo in 1-18-1 doc Cos'è la 1-18 Questa non è Questa ti pare Una vecchia versione È una nuova versione Sì Già da un bel po' di tempo Beh è vero Da più di 6 mesi Neanche da un Ma come 6 mesi? Ma questa è scherzo Però è uscita a dicembre Anzi 7 mesi Sì la 1-18-1 È uscita a dicembre Ma se Se Sette mesi fa C'era la 1-17-1 Bro la 1-17 è uscita a gennaio dell'anno scorso Più o meno Chiesto 3.000 volte Ma cosa? Ma WC è bloccato Lele ma sei un coglio Lele è un coglio Chi ha un po'? Aperta Sì ok Mamito Sbagliato È più o meno 5 mesi che c'è È bello C'ho 15 stack di diamanti Anzi forse 8 Ah no abbiamo sbagliato entrambi C'è dal 10-90 È appunto 8 E che non c'ho più capito nulla Ma sono arrivato 20 Che mi tocca giocare sempre in 1-18-1 Perché ci si fanno schifo tutte le versioni No Ho piazzato tipo Ho piazzato i blocchi In una con una tempistica che ha fatto la musichetta Tu 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 Ti giuro Senza farlo apposta Non riesco a fischiare Guarda La 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 Questo è un fischio Non lo sapevi No io ho imparato a fischiare in un altro modo con la lingua Di chi ha joined the game per la terza volta Bello Spotify Non me ne fotte un c***o della tua pubblicità Sgozzo Doxe Non sta Raggito Mi ha fatto tipo 30.000 pubblicità Sì ma è una merda È vero ma io ce l'ho le nederite Ne ho un pezzo Uno Oh cazzo Io ce l'ho 18 God Io mi faccio già l'armor in nederite volendo Va bene Non mi chiedere niente Ma che c***o c'entra Due giorni Allora io lascio Il materiale per fare un ender chest Dentro Alla lava E alla lava si vabbè Se qualcuno ha un ender pearl Può farla Ho lasciato i materiali in una chest nel bunker Così che la mettiamo qua nel bunker Se mi esce sulla spada Looting 2 Che merda Io c'ho un ender pearl Quando troverò degli ender pearl Ender pearl Ender pearl Ho droppato il piccone Che faremo Voglio farei così Incenterei questa spada Sono finiti i lapis praticamente Se ne avete da portare Io ne ho 3 stack e 20 Bravo Ale Ed occhio io continuo il muro Visto che ho un po' di quarzo Io c'ho uno stack Ma è che si chiamava il ponteggio marino No Stoccaggio marino Ma cos'è che volete fare in quella stanza lì Ma io sto stoccaggio Non ho ancora capito cosa sia Che sarebbe? È un magazzino Stoccaggio Roba che stoccaggio E perché marino? Non lo so È per questo che io non ho capito niente Ma mi spiegate perché Minecraft è fatto male E sulla spada di diamante Mi dà looting 2 E su quella di ferro Mi dà looting 3 E più un oggetto è scarso E più se lo dà potente Sì ma dovrebbe essere uguale No Forse perché è rinominata la mia spada No Ora mi dà looting 3 anche su questa Sharpness 4 ragazzi Wow Basta spercare i livelli per stasera In verità ne ho ancora un po' Io ne ho 21 Doc ma un pavimento con anche il basalto levigato Eh infatti adesso io la sto evitando Solo che fa livelli Quindi la prendo No ne fa buissimi Non la prendo Allora sì Abbiamo altri questi Dai ma che palle No io vorrei utilizzare anche un po' di basalto Per fare Raga ma dove la posso fare del cibo? Doc ma nello stoccaggio faremo un portale Che lo attraversa? No Oh vedete Ma no a questo punto il portale lo lasciamo soltanto per quello Per Io direi qua di fare tipo una ropetta in basalto Doc Sì? Può andare Puoi entrare un attimo nel nether Dammi le coordinate del portale Poi Puoi riuscire Se mi fai condivisione Cioè nel senso ho l'orientamento buono Penso E ma sia sotto terra Dammi Vai lì nel portale Ma non c'ho voglia di arrivare fino al portale adesso Dai non c'hai mai voglia di niente Dai vai Ma io non sono stanco Doc Io ti ho fatto nascere l'altro giorno Muovite da andare Che senso nascere? Mi hai espulso dal cu Mi hai espulso dal cu Ti ho fatto nascere Dai muovite da andare Non c'ho voglia Doc Allora se io vado Lei mi deve fare un favore Perché già è arrivato in ritardo di mezz'ora E va bene Non lo so Ti do tre di netherite Va bene Quattro Ce ne c'è uno che mi hai rubato No non è vero Quello lì l'ho trovato io Sta zitto Mi l'avevi dato Te l'avevo dato Perché sapevo che mi avresti rubato qualcosa Quindi dandoti una cosa Ne avevi una Così non mi potevi rubare niente Ma Che cazzo Comunque dovrebbero essere Più o meno Cento cento Non lo so Settanta Meno cinquanta Meno quarantacinque Aspetta Allora Settanta Altezza Non lo so Siamo anche all'altezza Ma perché no Cento Ci sei Non mi fa più entrare nell'overworld raga Ok Appena si è entrato nell'overworld mi è scattato un botto Eh lo so perché il server deve generare Ah ma c'era praticamente sopra Sotto Sopra sotto cosa Quando dove cosa C'è un po' d'abba No ma C'è un po' d'abba No ma Giusto impassito Si è notato Dispassito Docento è posto easy Vediamo se riesco Perfetto Torno al bunker Allo stoccaggio Comunque la Mogos Sword è bellissima sempre Sta roba Però bisognerebbe creare una spada Originale per tutti noi Io ho la The Roxus Sword Tommy ne ha due addirittura Ah io c'avevo la staff È vero Lui ne ha una Però mancherebbe una spada per Ale Una spada per Andrea Una spada per Vabbè Terror Non gioca Per chi non gioca Non gliela faccio No non una spada Per forza Un meme Un meme Un meme da fare per ognuno Tipo abbiamo creato il ton naso La sword con il tonno sopra Che non è un tonno Ah volevo fare Una spada con Tipo Orlite No tipo Mi lascia condivisione Che almeno vedo da dove passa Non lo so mi sto annoiando Mentre gioco a Minecraft Va bene Vicenza Perché dopo tu mi Dopo tu mi scami In che senso Ti rompo il portale Eh sì No in realtà Te mi vuoi scammare L'aneverite Eh io lo faccio Ma se è nel tuo inventario Come te la faccio Vabbè No no Non mi fido a usare questo Guarda no come Non ti chillo Anche perché non mi conviene Ah perché sono più forte Cioè potrei Però non c'ho voglia Doc Per Dio Forse lei che ha quasi dato Le cose diventate sbagliate No io ti ho dato quelle giuste Eh ma hai iniziato a fare una brutta fine No Doc non fa le brutte fini Io ho Mi sa che la farà l'altro doc Non lo so Così Però non so Qua possiamo mettere tipo Ah Trovato? Luca Non mi hai tirato giù Ma aff***o Ti pensi che non lo sappia Io salto sempre Che esco dal mezzo Ah che merda Però dovremmo farlo più profondo Più largo E poi magari se ci togli l'acqua Potrebbe essere una buona Ah non è Non è desponata È vero Perché no Perché l'acqua despona Non ho caricato i chunk Eh non ho caricato i chunk Mio lo farei largo due Il passaggio però qua Lì lo lasciamo largo uno O due Non lo so So solo che qua va rotto Tasso tenga un po' di quarzo Questo è basalto Ah tieni Ho raccolto tipo una marea di roba Tieni Questo è tutto C'è un k Dove sono i miei tre di nederite? Quarzo lo prendo per fare Eh io non ho nederite Tu avevi detto che ne hai tre Io non ce l'ho Tu sei un troll del di merda Perché io non ho nederite Nederite scrap E allora dammi tre scrap Tu mi hai detto nederite E non ce l'ho Che ti devo dire Allora dammi tre lingotini nederite Quando li avrai Va bene? No O preferisci gli scrap? Quelli sono nederite ingot Allora tu mi devi tre pezzi Di nederite Scrap Di uns and debris Tu mi devi gli uns and debris Così te lo metto nel culo E me li dai per forza Intelligente eh Sono impegnato Doc lei mi deve Delle cose Per farli esplodere Meglio Secondo me questa zona Però la possiamo tenere Una mille blocchi di distanza bello Mi costa sette Riparare questo piccone Io ti picchio Mi hai la nederite Oh Eh non ce l'ho La nederite Si che ce l'hai stro Non ce l'ho Muoviti Ti faccio Vado alla caia Sono per te che penso Dai Non ce l'ho Si che ce l'hai stro Se il doc promette Il doc mantiene Non ce l'ho Allora io vengo a sfondarti la casa Aiuto E tu non passi Perché non passi Perché sei antipassaggi Io sono lo stoccaggio doc Lei è marina invece E adesso Chi passa E io perché sono sus Non puoi Io mi fortifico Guarda puoi cercare Non c'è niente Ma lo so Ma devi tre di Puoi spiegarmi il cane Cosa sta facendo Girati Ah madonna Il cane soffoca Eh ma ce l'hai messo a te No non ce l'ho messo Io te lo posso giurare Ma che cazzo ci fa Lì dentro Ma io non l'ho mai toccato Ah nemmeno io Cosa Bro te lo posso giurare Hai la live C'ha tipo uno sputo di vita Non lo toccato Sputagli così almeno la riprende Beh fai passare No dio Oh Mi hai tolto tutta la vita Oh Vieni Figlio di puttana Rianimami Ma no queste cose le posso dire solo io però eh Ti conviene venire fuori Eh Come cazzo faccio a uscire Uffa mi tocca togliere l'acqua Muoviti dai Aspetta che c'ho da togliere tipo tutta l'acqua Eh Doc si sposta Ah No Per favore Non voglio perdere Non riesco Non lo vuoi capire Che c'è tre chili d'acqua Chili d'acqua No Doc Doveva rianimarmi un secondo prima Così avevo centoquattro secondi E peccato Anzi in verità era un minuto e zero quattro Ma poi Perché ogni volta mi devi toccare e ammazzare Io non ho capito Come ho fatto a piazzarti l'acqua Un bullo sei Un bullo Io sono cattivo oggi Ma tu sei un bullo Se mi ritocchi Ahia Ma lo vedi che sei strumento La mia Il mio basalto Ma poi continui a picchiarmi Lasciami sta Basta Tu mi hai atterrato Adesso io ti faccio diventare Un Una te Un pezzo di terror Ti faccio diventare Terror Io potrei avere la spada Io non ti sto ammazzando Quindi tu non hai il diritto Di atterrarmi E basta Ahia Non ti ho fatto niente Eh io devo atterrare Due volte il doc Adesso Io atterrerò Due volte il doc In questa live Giusto Non lo so Si giusto Circa Io in un momento a caso Doc le atterra Che poi tu sei struttato Perché non ti togli l'arma Perché c'è il 60 di pane No il mio pane L'ho fatto ieri Quei 60 Te l'hai sempre fatto Quei 60 sono venuti Bruciati insieme Ma poi che puttana L'ho fatto ieri un'ora Vorrà dire che Il grano è cresciuto Quei 60 Sono andati bruciati insieme a Tommy Appunto Tommy brucia Tommy è una strega L'ho bruciato Ah le senti qua E ti ammazzo Ho sbagliato Scusa Sto uscendo Sono uscito Ti consiglio di far sedere il cane Che cazzo Ma hai incazzato con cosa Scusami Vabbè 25 cavalli Lui fissa il vuoto Uno ha tre di lana Per farmi un letto? Sì No Non lo so So solo che Il Doc Deve andare giù Almeno due volte Oggi E io salgo E io ti spacco L'oscuro Ecco Il Doc Allora Dove Hai rotto tutto Cosa? No io ti ammazzo In che senso Ho rotto tutto Io Dai mi hai fatto perdere 20 30 livelli C'ha venuto Doc io non l'ho toccata Lei è stupido Non sono morto da so Sì che sei morto da so No Doc io non ho fatto niente Le ho detto Lei si è suicidato Io non l'ho toccata Lei ti ammazzo Dove sei? Non mi interessa Io qui ti ammazzo Hai rotto la scala Non l'ho rotta la scala Non l'ho toccata Avevo 30 livelli Adesso ce l'ho sentito E tu mi hai atterrato Tu hai premuto shift Sei stupido Non l'ho premuto Ce l'ho disabilitato Lo shift Lo vuoi capire Ma come cazzo fai a disabilitarlo Se ti ho visto shiftare prima Perché c'è a su hold Quindi non va Devo andare lì a tutti E poi posso venire Nel bunker Basta che non passi Per casa mia Ops Io mi nascondo Già fatta No Vero che voglio Io non ho fatto niente A parte che ti devo atterr Domani ti atterrerò Un'altra volta Tu non ti puoi lamentare Se muori da solo Eh Devi capirlo Adesso ti picchio No Io ti picchio Il doc non mi tocca Ho fatto anche smontare l'acquare Se non mi stai Io smonto le cose Ma le monto anche Ho fatto anche se